I lezioni per il rinnovo dei rappresentanti negli organi di governo dell'Università degli Studi di Milano e nel CNSU. Si vota presso i seggi dislocati nelle sedi dell'Ateneo martedì 17 e mercoledì 18 maggio dalle 9 alle 18 e giovedì 19 maggio dalle 9 alle 14. Gli studenti, i dottorandi e gli specializzandi potranno individuare il proprio seggio di appartenenza collegandosi al portale d'Ateneo nella sezione Votazioni in corso. Per votare presso gli appositi terminali, porta con te la carta La Statale e un dispositivo mobile e accreditati presso il seggio per ricevere le credenziali nella tua mail d'Ateneo. Reccati alla postazione di voto che ti sarà assegnata e inserisci le credenziali ricevute nella mail. Ti appariranno in automatico le schede e gli organismi per cui puoi votare. Nella scheda troverai il numero massimo di preferenze che potrai esprimere. Ricordati che non è possibile selezionare più di una lista. Potrai esprimere un voto di lista, un voto di lista e di preferenza oppure scheda bianca. Ricordati di registrare la scelta espressa per concludere il voto. Una volta terminato, dovrai lasciare la postazione e la tua utenza sarà disabilitata definitivamente. Sempre nella casella mail d'Ateneo troverai la tua ricevuta di voto. Per il CNSU ti sarà invece fornita una scheda cartacea secondo l'elettorato di appartenenza. Inserita la scheda nell'urna, ritira la carta La Statale dal personale di seggio. La tantissima mia sedia per la Grunde di provare. Giordi che con la t экспicksilare la cartasa Tepo e paintedbike sp alimento di farlo. Grazie a tutti.